secondo me, negli alpini a far fatica e a portare rispetto, però una roba alla volta ma è inutile che tu urli compagno, hasta la vittoria, sempre, sempre però, guardate, vi faccio solo notare il bello della differenza per cui alla fine vinciamo noi perché io penso che nessuno di voi si sognerebbe mai di andare a rompere le scatole a un comizio di qualcun altro nessuno di voi, nessuno di voi è per questo che vinciamo, perché con noi stanno l'educazione al rispetto, con noi stanno tre cannoni e la maleducazione andate al centro sociale a spaccarvi di canne e non rompete le palle al prossimo e non rompete le palle al prossimo non ve lo dico da ministro ma ve lo dico da italiano siete vecchi e superati siete vecchi e superati con la vostra face e il vostro martello andate in campagna a lavorare con la faccia qui a mattina ma è bello così è bello così perché non si sentono un minuto di silenzio non si capisce ragazzi non ci sono più i comunisti di una volta ragazzi più uomo sbattuto della nonna e meno canne e marijuana così almeno si sente meglio la voce si sente meglio la voce torniamo alle cose serie che quelle lì non sono serie arriva in prima a Grazie a tutti.